E ora, ascoltate il mio ruggito per il sacralero! Ma come hai fatto? Con questi lampi hai abbattuto cinque speccari in meno di un secondo! L'avevo detto, no? Gente come voi non entra nella casa del leone se ci sono io a preservarla. La prossima volta il tentativo vi costerà la vita! È troppo forte per noi! Il cavaliere del leone ci ha mostrato le sue zanne. Se lo attacchiamo di nuovo il suo ruggito ci travolgerà. Non abbiamo speranza contro di lui!